Voglio che tu ci lasci con un pensiero su una cosa che a me domenica mi ha mastretto il cuore. Domenica eravamo con mia moglie in giro per spese, per commissioni eccetera, oggi andiamo a farci un panino da McDonald's, no? Sai, noi non ci andiamo quasi mai perché riteniamo che insomma, sai, mangiamo in sabina, quindi figurati. Però qualche volta c'è anche delle cose buone, ci sono anche qualcosa di buono, cioè andiamo a vedere questi panini nuovi, cioè noi proviamo e ci sediamo come lo facevamo quando eravamo un po' più giovani, ma ancora oggi ogni tanto ci divertiamo, no? Quindi non abbiamo problemi a fare i nomi ovviamente. Ci siamo seduti, eravamo vicino alla porta d'ingresso di questo, possiamo dire anche dove, qui a Corso Francia, quindi c'è una porta d'ingresso dove tu praticamente guardi l'esterno, dove si parcheggiano le macchine, le auto eccetera, in mezz'ora che saremo stati saranno passati almeno 30 di questi signori che arrivano con i motorini e con questo sacco termico per prendere le cose e portarli a casa, all'una e mezza, all'una e mezza di domenica. I riders. I riders. Allora, a me ha fatto molta tenerezza vedere riders di 50-60 anni col motorino d'inverno per guadagnare 3 euro, rischiare la vita su un motorino in città per sfamare uno che sta a casa e non alza neanche il culo per andarsi a prendere un panino che costa 4 euro da McDonald's. Però ferma. No, aspetta. Non voglio, però su questo proviamo a fare una cosa, proviamo a guardare anche la luna, non solo il dito. Allora, io non vado da McDonald's. Ma non perché se mangio la carne voglio che sia carne diversa. Sì, vabbè, però. Ma detto questo, pensiamo, allora, questi grandi gruppi sono riusciti ad avere. Ma non è McDonald's, quelli sono tutti riders, tutte cose, capito? Sono piccole cooperative. Avevano piccole cooperative. Allora, questi qua però erano persone anche, sicuramente italiani, anche molti di loro, ma di una certa età. Ma c'è. Gente che ha perso il lavoro e che è costretta a guadagnare 3 euro, 2 euro per rischiare la pelle, per portare una cosa che ne costa 4 a casa, quello che non gli va neanche di alzare il culo per andarsela a prendere un paniere. Ecco, però qua ti fermo. Ma non è una società che può funzionare, Marco. No, non funziona. Tu sei comunista, non puoi accettare una società. Scusa, abbia pazienza. Infatti se un po' non funziona più. Io vado a Bari sabato a fare un convegno con gli agricoltori e gli ulivicoltori della Puglia. Vado a Carovigno. Ma resta a Piazza Massimo? No, ma devo fare anche il mio lavoro, si mancherebbe. E lì denunceremo il discorso che questa agricoltura è messa proprio fuori mercato in Italia. Noi abbiamo i pomodori fatti in Olanda che fanno schifo e buttiamo i nostri pomodori. Cioè è la mentalità del mercato. La società basata sulla concorrenza e sul mercato incespica col diavolo. Davvero lo dico. Perché è una società che sta puntando solo al profitto. E quindi tu avrai queste condizioni. I nostri giovani. Ci sono stati in Italia l'anno scorso 10.000 giovani che sono andati a fare gli stage da McDonald's. Ma che stage fai gratis da McDonald's? Lavori gratis. Perché che professionalità hai a fare quello? E' chiaro che dopo stai in mezza giornata hai imparato a capire cosa fare. Beh è un metodo anche quello. Secondo. Non credo che il problema sia questo. Ma però intanto lo Stato ha fornito giovani gratis alle multinazionali per avere uno stage. Non l'hai fornito a una start-up. E' brava. E' brava. E poi questi ragazzi... Quanto ci vuole imparare a fare un palino? Questi ragazzi che fanno i riders sono nuovi schiavi della logistica. Questo sì. E ci sono non solo nei riders. Perché cosa succede? Se tu hai questi grandi agglomerati di merci, hai bisogno di grandi numeri non solo interni. I magazzinieri che hanno l'orologio che li spinge per non sbagliare le funzioni. Ma hai anche una grande logistica attorno. Questa logistica è fatta di cooperative che dal punto di vista della storia della cooperazione sono la negazione, sono soci di cooperative che in realtà non decidono niente. Sono molto peggio che nel settore privato. Sono moderni schiavi. Verissimo. Sono finte cooperative. La cooperazione era una roba di sinistra. Oggi è peggio del privato. E quando noi capiamo questa cosa qua, possiamo capire anche quanto una certa sinistra abbia tradito la propria essenza. Antonio Gramsci si ribalta nella tomba, si rigira a vedere che i suoi nipoti, se vogliamo chiamarli così, hanno costruito un mondo di quel tipo. Quando uno di sinistra dice finalmente abbiamo una banca, credo che sia la fine della sinistra. Ed è per questo che io mi candido contro il ministro dell'economia nel collegio centro di Roma Prati delle Vittorie. Perché voglio che ci sia un altro punto di vista. Vi racconterò appunto che lo slogan della mia campagna elettorale si chiama appunto l'altro punto di vista. Noi dobbiamo chiudere l'altro punto di vista. Beh, allora contiamo di averti di nuovo. Volentieri, grazie. È partito l'invito anche agli altri interlocutori che ti sfidano alle elezioni di marzo. No, grazie Marco perché il tempo con te passa veramente veloce. Grazie. Perché poi si parla, si è piacevole. Perché poi se mi testa qua mia moglie magari non direbbe la stessa cosa. Vabbè. Grazie Marco. Alla prossima. Ciao Fabio, a domani. Grazie, arrivederci a tutti.